Oh vai, allora oggi bucaioli l'ananasse alla fiorentina Oh vai, allora, voi dovete prendere l'ananasse e sbucciarlo Gli va a levare il torsolo, perché... e via Filettino di pollo allevato con l'acqua di mugnone, quindi pollo ruspante Poi salare e pepare E che gli sta facendo? Una sega ai macinino? Si va a inserire il nostro ripieno all'interno dell'ananasse Che è il culo dell'ananasse, vedi? E si va a tappagnare, ci manchi il tappo Oh vai, ora, tocco di classe, la va rinvolta nella pancetta Oh vai, senti che voce che ho stamani, mi sembra adesso abbetto surdi Allora, l'anima du Brasil Comunque questo piatto a me mi intriga, io lo voglio rifare Perché sono convinto che gli è di molto, ma di molto buono Ma noi ce l'avevamo già pronto per questione di tempo Bada la, bada la gianzata, gli ho un incrocio fra un gallettino e una nasse Giovedì 12 dicembre a Rio Grande a Firenze Toscana Maremma Maiala Show Cena brasiliana più spettacolo in toscano Prenota ora, attenzione se non le passi in giro il comboglio